Signori miei siamo tornati su Bioshock. Basta! Bioshock Infinite, signore, è uno dei migliori giochi mai giocati per ora, eh? Molto interessante, mi piace moltissimo la trama, poi vabbè, fuori dal comune. Mi piace anche molto questa cosa che bisogna esplorare. Grimal dell'One, ritragliatrice. Cosa cambia? È la stessa. Però la mia è più carina, perché è d'oro. Ok, andiamo oltre, vai, vai, vai. Sì, vabbè. Veduta la tosse. Armamolo. È un camino? Papapapapapapamam. Vediamo un po' di... Vediamo un po' di... Di, di, di... No! Mannaggia la patata rotolante! Beato te! Poveroccio che so che sfiga! Bravissimo! Scusa, non vi ho tirato a voi una... Maledetta! Bellissimo il patriota! Non ce n'è, però. A me dispiace... A me dispiace, amici, ma contro... Di noi non ce n'è. Uh, sali! Sali, sali, sali. Ma sei sopra te? Per me. Mostro! Ma scusa, tutta sta gente non ha un mitragliatore? Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua c'è una pistola anche, vabbè. Non me la fa raccogliere. Aspetta, aspetta, aspetta. Che su... Ci dovrebbe essere della gente così. O questo qua ha la mitagliatrice. Tu hai la mitagliatrice? Ero cinque colpi. Non puoi aprirlo senza chiave. Attenzione. Devo prendere la chiave di questo. Nel farsi un bicchiere con la gente della Fitz Roy. Devo esservi ubriacato, però. Perché ho perso la chiave dell'armagnetto delle prove. Gioccato col barista. Se lo scoprono. Di il barista, eh? Con il barista. Mi dispiace. Mi dispiace. Con il barista. C'è una mappa? Non ho la mappa, vero? Non ho la mappa. Non ho la mappa. Non ho la mappa, non ho la mappa. Però il barista dovrei magari riuscire a trovarlo. Kit medici non mi interessano. Dov'è? Il barista sarà qua, eh ragazzi. Assolutamente. Devi aprire una serratura. Ok. Apri. Uh, là dentro c'è una roba interessante. È fatta. Bravissima. Bravissima, amica. Finiamo? Posso aumentare ancora? Sì. Allora. Il 40% di un'altra volta invece cadono... Cedono, sali quando muoiono. Mi dispiace. Lo prendo ma no, mi interessa perché le munizioni... Mi servono ben di più. In fondo di là ci sono i bagni... Con il barista. Columbre, authority... Non so se il barista può essere in questa zona qua. Non credo. Non credo proprio, sapete? Non vedo altre zone, quindi io scendo. Ok, mi hanno dato un po' di munizioni. Sì. Dai un'occhiata a questa serratura. Apri la serratura. Sta diventando interessante. In realtà, procurando le armi ai vox popoli. Liuteremo noi stessi. Daisy può cambiare le cose. Ehm... Prenderle migliori... A 10 chilometri prendo le cose nei barili, io. Inizio, facciamo il massimo. Arma da scarica. Vediamo un po'. Sarei curioso di vedere cosa c'è dentro quella cosa lì. Però... Devo trovare il barista, poverino. Poverino, intanto io ho scippato la roba. Qui? Non c'è niente. Beh, di sicuro non riusciremo a trasportare tutto questo al laboratorio. Maledizione, non abbiamo pianificato bene. Bene. Ho preso una sacca di monete. Non è proprio, proprio detto, eh. Sapete perché, eh. Che cos'è? Appunto. Aprello. Aprello. Sì, apriamo lo squarcio. Vorrei prendere la cassa, ma... Ne daremo troppo tempo. È una roba secondaria. Io le cose secondarie non le ho mai fatte molto... Volentiere, molto spesso, sapete. Madonna, ragazzi. Però qua... Perché non mi danno le munizioni? Aspettate un secondo. Però aspettate un secondo, amici. Magari adesso il barile è aperto? O c'è un bar? Daisy Fitzroy. Oh, rogo, come va. Ok. Permesso, Elisabeth. Sbaglio o è cambiata la stanza, proprio? No, è qua. È qua. Non puoi aprirlo senza chiave. Non cambia niente. Va bene. Sì. Sono bombe. Sono bombe. Sono bombe. Fratello, sono bombe. Che sta succedendo? Nonadesco. Nonadesco lo stai di qua. È un vecchio. 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 Mi sono bitcana. Non systo, non advancesco. Ha detto veramente la Sengan? No, non l'ha detta, mi sono sbagliato io. Dov'è l'armeria adesso da qua? Ah, ho capito, benissimo. Sono io. Sono io, zio. Sono io. Sono un eroe. Mi ricordo, zio. Oddio. Ci sono due memorie allo stesso posto. E ce ne andiamo da qui, sui fastidetti. Forza, andiamo. Non sono morto. Ma non sono morto, sono vivo. Sono morto per questa gente qua, per questo postaccio schifoso. Ma che roba in te. Ma che incredibile trama. Ma che incredibile trama. Povero ricco. Salvataggio. Andiamo, andiamo ancora oltre un perino, dai. Cecchino, torno all'armeria. Vai. Sono un mago. Opa, lalà. Arrivederci. Ci sono delle bestie, stavolta qua, eh. Sali. Invece, le ho dei soldini. 260. Non mi interessa. Munizioni, arma. Pistola. Petragliatrice. Ok. Non posso passare. Tira la leva. Tira, sta schifosa leva. Veloce. Non è ancora fatta. Amichetta bella. Armeria. Tutti a bordo. 6 di 8. Ma io corro. Non vado a queste cose qua. Sono morti? Sono morti di nuovo questi qua, ma basta. Sono morti sempre. Non muoiono sempre questi qua. Permesso, fate passare che è veramente bravo. Quanto in cui Chen Lin era vivo, l'ho creato. Quanti? Bravissimi. Sono morti tutti. Vai, questo cosino. Ce l'hai, ce l'hai. Ma qua sta succedendo qualcosa, eh. Il faccio l'ho preso. Vai. 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 Vai, ho lanciarazzi. Vai, ho lanciarazzi. Il cancro. Bravissimo. Ammazzo tutti. Bravi nemici, amici. Tutti. 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 Voilà. Non pensare. Via. Via. Tutti via. Brava, Isabel. Ah, apri bomber. Vai alla fabbrica. Per l'amor di Dio. Sono morti tutti. Sono morti tutti. Sono morti tutti. Dobbiamo eliminare un dirigibile. Un commutare un guns. Un semplice. Grazie. Vai. Us nosotros. Un semplice. Un semplice. Dovevo saltare No No Ok 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 Oh, così non funziona Così non funziona Vai, 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 vai 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 A palla Ci possiamo lavorare Dovrei stare un po' fermo Ma potevo atterrare Ma scusami Ma scusami Headshot, bitch Non ho colpi Ho sprecato un casino di colpi Bravissima Ma chi sei? Basta un attimo Basta un attimo Che ho da fare Questo qua non ha munizioni No Distrugio il motore Et voilà Ok Ora si scende da qui Io l'ho tentata Voilà Più facile di quello che sembra John Wayne John Wayne John Wayne John Wayne John Wayne Andiamo Andiamo È stato spaventosamente bello Andiamo Bomber La fabbrica Stiamo andando come dei treni Stiamo andando come dei treni Allora muori Prega Che è successo La donna Signore Direi invece che l'appuntamento di oggi Può finire qui Ci vediamo al prossimo video Tutti Da poco Grazie a tutti